Ricotta and Cherry Tart Organic Io sono Alice e per questa ricetta useremo l'antico Molino Rosso type Zero Organic Flour ideale per preparazioni tradizionali e genuini Aggiungere il flour con la padella un po' di salto e il zesto di un limone Cattare il battero in piacere e aggiungerlo Aggiungere e lavorare la mixtura con le mani Aggiungere l'olio e il zucchero e poi aggiungeremo fino a creare un po' di scherzo e anche piacere Aggiungeremo la crema Aggiungeremo la crema Aggiungeremo la ricotta, il limone, il zucchero e l'olio Aggiungeremo la crema Aggiungeremo la crema Aggiungeremo la crema Aggiungeremo la crema e lineare la crema con la crema con un forno Aggiungeremo la ricotta in base e spiegare la crema di caccia e la crema di caccia Aggiungeremo la crema e la crema di caccia